E quando c'erano prima questi zumi era molto meglio di vivere come adesso, perché erano gente anche se brutta, ma gentile, aiutavano sempre. A me, per esempio, una volta che io ritornai, che andai a fare la spesa, incontrai questi zumi e avevo tanti pacchi e lui venne incontro e mi aiutò, me li portò e mi aiutò fino a casa mia, fino a sopra. E' stato gentilissimo. Io preferivo quando c'erano loro. Adesso è peggio. Ora diventarono come prima, sempre maleducati, sempre tanti piccoli delinquenti. Invece quando c'erano i zumi non si aiutavano alle persone, li difendevano. Le persone non li volevano perché forse per le loro sembianze così brutte, però come cuore, come animo, erano buone.